Un ecografo portatile è stato donato alla struttura semplice dipartimentale consultori dell'ASLNO grazie al contributo liberale della Fondazione Banca Popolare di Novara. L'apparecchiatura, consentirà al medico ginecologo di visitare le proprie pazienti con il fondamentale supporto ecografico. Oggi i dispositivi portatili rivestono un ruolo cruciale perché consentono di portare le cure ovunque sia necessario e in tempi brevi. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Beba Steck House, a Ornavasso.